L'uccello nella rete Un proverbio tedesco dice La troppa curiosità spinge l'uccello nella rete. Commento Nel mondo animale la curiosità serve all'anima gruppo per esperire ciò di cui ha bisogno. Nel mondo umano la curiosità serve al singolo individuo che non appartiene più ad un'anima gruppo per esperire ciò di cui ha bisogno.